Vedete questo cartello? Da oggi sarà presente lungo le strade del comune di Selvazzano, nel Padovano. A breve infatti partiranno i controlli di vicinato. Questo avviso avverti malintenzionati. Attenzione, i cittadini infatti diventano sentinelle, occhi puntati sul territorio per registrare movimenti strani. Ecco i loro compiti. ... sul territorio e di riferire, assolutamente non di intervenire. Dopo aver aderito al progetto, sottoscritto con la prefettura, il comune di Selvazzano ha formato circa 100 volontari che comunicheranno tra di loro attraverso una chat whatsapp e poi a filo diretto con le forze dell'ordine. Questo si aggiunge a quelli che sono tutti i dispositivi di videosorveglianza, di controllo che tutta la pubblica amministrazione può mettere a disposizione, però con un sistema di rete fatto di persone che sono formate. Per chi volesse diventare volontario di controllo di vicinato può chiedere i moduli in comune. C'è ancora tempo.